Buonasera a tutti e benvenuti. Una volta si diceva ridendo e scherzando. Ridendo e scherzando, tra virgolette, forse anche no, sono passati cinque anni dalla proclamazione a Papa di Francesco, di Bergoglio, di Papa Francesco, pontificato che raggiunge appunto, se non ero ieri, che ha raggiunto ieri cinque anni di conduzione, di redini, di timone della Chiesa Cattolica, travagliata o meno secondo alcuni. Diciamo però che la figura di Papa Francesco, e quindi se ne parla un po' di più in questo momento, è una figura con luci ed ombre, nel senso che anche gli stessi vaticanisti fanno fatica a dare un giudizio unanime su questo Papa. Si parla di Papa scomodo, si parla di Papa che divide, si parla di Papa radicale, si parla di Papa, tra virgolette, ovviamente, grillino. Si parla sicuramente di un Papa che, all'interno del proprio popolo dei credenti, ma anche all'esterno, sicuramente ha suscitato una serie di riflessioni, anche appunto discordanti tra gli stessi vaticanisti. Si parla di uno stile, uno stile Francesco, si parla di un'attenzione particolare a quelli che possono essere i mali, i problemi della Chiesa, in particolare mi riferisco alla pedofilia, in particolare mi riferisco alla gestione delle stesse finanze vaticane. Si parla anche di un intervento di questo Papa, a volte puntuale, a volte anticipatorio, a volte ancora a piccoli passi, a piccoli pezzi, in quello che è il tentativo di disinnescare una sorta di nuovo conflitto mondiale, globale, tra le nazioni. Una piccola guerra mondiale a pezzettini che lo stesso Papa, con molta pazienza, sta cercando di disinnescare. Addirittura, a chi dice, ma però mi sembra che la figura del Papa sia stata un pochino desacralizzata, lo vediamo forse più, tra virgolette, terra terra rispetto a Papi precedenti. Persone, personaggi, addirittura anche atei, se non erro, scrittori di chiara fama, dicono no, la figura del Papa non è assolutamente stata desacralizzata. Appunti all'interno della Chiesa, ma difesa del precedente Papa Emerito, Papa Ratzinger, viene quasi rimproverato a questo Papa, tra virgolette, sempre una sorta di povertà culturale, teologica, rispetto ad encicliche, rispetto a suoi predecessori dottissimi e finissimi teologi. La smentita l'abbiamo in questo caso dal Papa Emerito, come vi dicevo, Papa Ratzinger, che difende lo stesso Papa Francesco e dice non è vero, non è così, si tratta semplicemente di un modo diverso di approcciare la realtà, di interessarsi e di diffondere quelle che possono essere le novità pastorali o comunque un'azione corale della Chiesa nel mondo. C'è chi lo fa con le encicliche particolarmente ricche di significato teologico, c'è chi lo fa con encicliche assolutamente parimenti, importanti dal significato teologico, ma forse così, spiegate in maniera più comprensibile, banalmente. Si parla anche di uno scisma, o si è parlato anche di uno scisma, sappiamo di cardinali compatti nel rivendicare una sorta di eresia, tra virgolette, a questo Papa. Si parla di un progetto rivoluzionario che vada un pochino anche a così muovere quello che la Chiesa ha sempre tenuto chiuso nei propri sacri scrigni con riferimento all'interno ma anche con riferimento all'esterno. Si parla comunque di un pontificato destinato ancora a compiere progetti importanti. Lo stesso Papa Francesco all'esordio della propria proclamazione diceva, ho l'impressione che il mio pontificato sarà breve, 4-5 anni, ma in realtà 4-5 anni sono passati. La cosa, il fatto forse da sottolineare, al di là, ripeto, delle baruffe interne della Chiesa, dei giochi di potere, di quello che succede all'interno delle mura vaticane, la particolarità che possiamo sottolineare è l'interesse per questo Papa, per questo pontificato da parte di coloro che forse nemmeno cattolici sono o che forse nemmeno credenti erano al tempo e magari stanno cominciando anche a rivedere le proprie convinzioni fideistiche, religiose, l'approccio con il divino e questo Papa sta riavvicinando queste persone alla stessa Chiesa. Lì ci vuole una certa sensibilità, ci vuole un modo particolare di approcciare, abbiamo però un Papa Francesco, Bergoglio, Gesuita, Francesco, altra colonna portante ordine dei Francescani, termini, nomi che danno comunque sicuramente un segnale di rinnovamento, di una certa sensibilità, di una certa umiltà e questo ci piace. Questo non significa però che all'interno delle mure vaticane questa sensibilità, questa umiltà, questa passione, questa compassione di questo Papa passi diciamo inosservata perché ribadisco da un lato questo stile, dall'altro all'interno della Chiesa comunque una certa paura per quelle che sono state le numerose epurazioni che questo Papa sta facendo al proprio interno senza tanta umiltà ma sicuramente con una certa solida fermezza. Grazie.